Adesso andiamo a toccare il discorso Bremer che toccando il discorso Bremer dopo andiamo sul discorso Marotta Allora, pesci Petri, Bremer passa dal Torino alla Juventus per 41 milioni di euro Per lo meno qui c'è scritto questo prezzo Giocatori che vedete questa è la didascalia, non la didascalia, il valore di mercato è il calciatore E vedete che allora parte dal Flamengo, va al Torino, dal Torino dal 2018 2018 continua il percorso di Bremer finché non arriva al picco più alto che è nella stagione questa qui del 7 giugno 2022 Che viene venduto, che il suo prezzo di mercato è di 35 milioni In realtà 47, non si è capito perché c'è scritto 41, vabbè Comunque sia 47-41 il discorso principale non è quello Fatto sta che il suo punto più alto l'ha preso il 7 giugno 2022 Avendo un valore di 35 milioni di euro Capite che Ragazzi, la Juve lo paga E non lo paga poco La Juve lo paga tanto Forse anche troppo E perché vi dico anche troppo E io non voglio averci i Juventini contro Perché non ce li voglio avere Assolutamente Per me Bremer è veramente forte E avrei speso dei soldi per prenderlo Ma perché Noi siamo lo United Una squadra che da anni che non si trova un difensore E da anni che facciamo cagare a spruzzo A livello difensivo E anni che cerchiamo profili By Lee, Lindelof, Maguire, Smalling, Jones È By, Blind È roio E potrei dirvene altri Sono anni che noi cerchiamo il centrale Non lo troviamo Quindi è ovvio che lo United Va a spendere più soldi Ragazzi Guarda I Juventini Io Devono essere sinceri Devono guardarsi nello specchio Quando io dico queste cose Voi avevate Romero E De Miral Non mi venite a dire che Romero È più scarso De Bremer De Miral Qui sarebbe una popolare opinion Perché sicuramente la maggior parte delle persone Pensano che Bremer sia più forte di De Miral Io non sono totalmente d'accordo Perché per me De Miral Se lo metti nel contesto giusto Se lo metti nella squadra giusta Come l'Atalanta Avete visto che è un giocatore Che ha delle qualità incredibili Ma ragazzi Romero Adesso Bremer mi piace Ma Romero è una È altra roba Romero è proprio altra roba Romero è un giocatore Veloce È un giocatore Fisico come Bremer Però c'è la qualità Ragazzi Romero La Juventus L'ha svenduto All'Atalanta L'ha svenduto Quindi Se uno adesso mi dice Jarno che ne pensi De Bremer Colpaccio Colpaccio Se penso Al colpo Ma se poi mi guardo indietro Cioè Se io mi devo valutare Il colpo Così Dell'acquisto E tutto quanto Io vi dico Colpaccio Ma se io Mi devo girare E devo guardare La Juventus Perché è andata Perché è andata a prendere Bremer Perché ai tempi Ha lasciato andare De Miral Perché ai tempi Ha lasciato andare Romero Tenendo Rugani Non 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 credendo Realmente a questi Ragazzi Continuando In perterrita A portare avanti Bonucci Chiellini Quindi non Portando avanti Questo processo Con questi due Giocatori Ha bloccato La crescita Di altri E arriva Questo acquisto Perché Perché è venduto Delict Che delict Ragazzi Giustamente Come mi ha detto Ragazzi Juventino Su Instagram Che c'ha pienamente ragione È il giocatore Che voleva andare via Quindi Non ci puoi fare niente Nel senso che Anzi Juventus ha fatto Una plus valenza Con i contro Cazzi Perché Avendo un giocatore A quella cifra Che se Voleva pure Andare via Cioè Solo applausi Perché è stata Una mossa intelligente Io ti dico la mia Su Bremmer Per me lui non vale Quei soldi Per me è un buon giocatore Per me è più forte Romero di Bremmer Se Bremmer è forte Lo voleva una squadra Bremmer Demiral Allora io D'Adone Ho una popular opinion Perché io Se me conosci Se me segui D'Adone Sai che io sono Un bimbo di Demiral Sono uno di quei tifosi Tifo United E pagherei oro Per avere Demiral E pagherei anche 50 milioni Sono molto 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 onesto Con te Perché per me Demiral È un difensore Di completezza Forse l'unica cosa Che gli manca È un po' la qualità Con i piedi Però è un giocatore È un difensore Che a me ha spaventato Quest'anno Quando l'abbiamo affrontato Agli ottavi Di Champions League Perché ha fatto una prestazione Che era Qualcosa di Agli ottavi Ai gironi No agli ottavi Ai gironi Di Champions League Ha fatto una prestazione A dir poco Impressionante Bremmer Impressionante Demiral Impressionante Giocatore che a me Piace veramente tanto Però questa è una mia Un popolare opinion Capisco che Bremmer abbia fatto Una stagione migliore Di Demiral Che Bremmer In questo momento Sia più forte Di Demiral Che Bremmer In questo momento Tra Demiral E Bremmer Il profilo perfetto Era meglio Bremmer Per la Juventus Io su questo Sono completamente D'accordo Però ragazzi Per me Demiral Messo in un Contesto Migliore È un giocatore Che rende A parer mio Renderebbe Molto di più La Juventus E se io vado A pensare Ritornando al discorso Precedente Se io vado a pensare Il colpo di Bremmer Sì È un grande colpo Ma se sei uno Juventino onesto Se sei uno Juventino Con le palle Se sei uno Juventino Che tiene La tua squadra Tu Fai una storia Su Instagram Tu Parli su TikTok Tu Parli su Youtube E dici la verità Dici sì Noi abbiamo preso Bremmer L'abbiamo fottuto all'Inter Marotta ha fatto la cazzata Ma noi per arrivare a Bremmer Quante cazzate abbiamo fatto Quante cazzate sono state fatte Per arrivare a Bremmer De Miral Romero La permanenza De Bonucci La permanenza De Chiellini Ma non è che dico Che non dovevano Rimane Ma sono giocatori Ma sono giocatori Che dovevano smettere Di essere titolari Due anni fa Soprattutto Un giocatore Come Bonucci Che ragazzi Ve venite a dico Lo che ve para Boh C'è sta con il mi dice Stai zitto Che c'è Maguire C'è ragione C'avete ragione Perché c'è Maguire Non dovrei nemmeno parlare Però ragazzi Se siete onesti Bonucci Nell'ultimo periodo Non è A parere mio Non è un difensore Da Juventus Nell'ultimo periodo A me Non piace Quindi Se voi andate a vedere Il percorso fatto C'è sta che Se sfotta l'Inter C'è sta che Se sfotta l'Inter Perché Quello fa Ve l'abbiamo fottuto In 48 ore Sì Ma l'avete fottuto In 48 ore Perché Perché ce l'avevate Nel culo Perché negli anni passati Sono state fatte Delle scelte Così sbagliate Che v'hanno fatto Arrivare adesso Ad avere Bonucci Gatti Lugani Bremer Se siete convinti Che questa difesa Sia una difesa Da Scudetto Contenti per voi Per me non lo è A livello Sulla carta Sulla carta Dopo Bisogna capire Se in campo Questo può essere Può essere Bremer Entra in campo Con la Juventus Per doppio Di quello che faceva Torino Io questo Non posso sapere Però La mia idea È che Tu Società Juventus Se facevi le scelte giuste Potevi presentare Mettete una permanenza De Ligt Cioè Qual è La difesa La Juve Mette a paura De Miral Romero De Ligt Ma anche Un De Miral Romero Bremer Altra storia Se venivano fatte Le scelte giuste Quindi Comprare Bremer È un vanto Ma allo stesso tempo È anche Se si è sinceri Devi anche dire Sì abbiamo Comprato Bremer È un vanto Però l'abbiamo Comprato Perché abbiamo Gestito male Gli altri giocatori Per me Bremer Al City Fa la riserva Per me Stones E la Borte Sono più forti No Mark Non lo dì Perché se no Ti dicono Che non capisci I calci Però è la realtà Dei fatti Forse Stones Non lo so Stones È un giocatore Che anche lui Con l'Everton È stato epocale È passato al City Un po' perso Quest'anno Ha fatto una stagione Mark Epocale Stones Bellissima Proprio Anche L'Europeo Ha fatto una bellissima stagione La Borte è superiore La Borte è assolutamente Superiore Di Di De breve era per il mio